Sì, grazie Presidente Bonaccini per la relazione e grazie per l'abnegazione con cui si sta cercando di far fronte a questa emergenza. Io devo dire che quando nella scorsa legislatura presentiamo un progetto di legge per istituire assemblee e commissioni in videoconferenza, mai ci saremmo immaginati di arrivarci oggi grazie o per colpa del coronavirus. Le modalità attraverso le quali oggi tutti noi stiamo intervenendo in questa seduta sono una testimonianza diretta della straordinarietà della situazione che tutti stiamo vivendo. È una straordinarietà che corrisponde a un'emergenza che è senza pari nella storia della Repubblica, con un numero elevatissimo di contagiati e purtroppo di vittime, che sta mettendo a durissima prova il nostro sistema sanitario, la tenuta produttiva occupazionale, le modalità di relazioni fra le persone nella vita quotidiana. Per questo desidero naturalmente in primo luogo esprimere pieno sostegno agli operatori del nostro sistema sanitario regionale, delle forze dell'ordine, dei servizi essenziali che stanno affrontando davvero con abnegazione e impegni esemplare questo periodo di emergenza. E poi il pensiero non può non andare alle tante, alle troppe vittime degli effetti da Covid-19 e alle loro famiglie, a cui va naturalmente il mio profondo orgoglio e a cui si aggiunge la piena solidarietà allo stesso modo alle persone che sono attualmente contagiate e a quelle che stanno affrontando le difficili, difficilissime fasi della malattia. Oggi lo sappiamo, siamo ancora in piena crisi, anche se sembrano esserci timidi segnali che accendono una speranza rispetto alla riduzione dei contagi e dei decessi. Ma è viva la necessità di affrontare, fermare e superare questa crisi, la sua dimensione sanitaria e l'impatto sull'economia, proseguendo senza se e senza ma lungo la linea del rigore della responsabilità individuale e collettiva, sintetizzata nello slogan Io resto a casa. Una necessità che si manifesta, come dicevo, anche nel modo in cui questa assemblea si sta svolgendo. Lo voglio sottolineare perché proprio nei momenti di maggiore difficoltà per la nostra regione, per tutto il Paese, per l'Europa e per l'intero scenario internazionale si deve fare in modo che tutti facciano la propria parte, anche sul piano istituzionale, sul piano delle decisioni e sul piano delle scelte. La deve fare chi ha funzioni di governo con le seguenti responsabilità esecutive, per esempio la giunta di questa regione o il nostro governo nazionale o anche le istituzioni europee, anche le istituzioni europee e su questo ci tornerò. Indipendentemente da come la si pensi politicamente io credo che oggi vada riconosciuta la disponibilità di cui parlava anche il Presidente da parte di questa giunta di aver aperto un canale diretto con l'assemblea attraverso i capigruppo di tutte le forze politiche che sono rappresentate. Un canale di scambio, di sollecitazione e di confronto continuo. Per questo ringrazio in particolar modo il Sottosegretario Baruffi e il Capo di Gabinetto Manghi che sono sempre disponibili ad accogliere le nostre richieste e a rispondere alle sollecitazioni che riceviamo a nostra volta dai cittadini. Le azioni sviluppate dai diversi servizi impegnati a vario titolo in questa emergenza stanno dimostrando una capacità di risposta particolarmente rilevante e quindi va dato atto che le nostre istituzioni regionali stanno facendo io credo tutto il possibile per fronteggiare una situazione che lo voglio ricordare è per tutti inedita e che ha colto tutti impreparati. Anche il Governo si è mosso ricercando il confronto e l'ascolto da parte di tutti i livelli istituzionali, in primo luogo le regioni, gli enti locali, oltre che l'associazione dei lavoratori e delle imprese. Questo non significa che sia andato per forza tutto alla perfezione. Oggi noi siamo un laboratorio, il Laboratorio Italia contro questo virus e abbiamo anche la responsabilità di essere il faro per gli altri paesi che ci seguono a ruota nella lotta alla diffusione di questa pandemia. Ma da tutto questo innanzitutto dobbiamo capire cosa e come fare per superare criticità analoghe, per evitare rischi, rafforzare sistemi e competenze e cambiare profondamente le nostre strategie. Tutte le crisi determinano un prima e un dopo. Oggi siamo tra virgolette nel durante e a questa contingenza dobbiamo dedicare tutta la nostra attenzione e i nostri sforzi, ma dovremmo ragionare anche con l'attenzione su ciò che prima ci ha reso vulnerabili e ciò che dopo ci dovrà essere di nuovo e ciò che dovrà cambiare. Perché penso che sia chiaro a tutti noi che qualcosa cambierà. Cambieranno i valori, le certezze e dovranno cambiare le priorità. Aspetterà a noi analizzare compiutamente le ragioni che per esempio hanno reso più rilevante la velocità di incremento dei casi di contagio nelle zone del nord Italia. Ragioni che autorevoli studi basati su una solida letteratura scientifica ritengono correlate alle condizioni di inquinamento da particolato atmosferico, come già riportato in casi precedenti di elevata diffusione di infezione virale. Perché purtroppo è già accaduto in passato che il particolato fungesse da vettore per virus e batteri. Dobbiamo fare i conti con il fatto che in pianura padana purtroppo abbiamo la peggior qualità dell'aria del continente europeo. Tradotto in determinate condizioni atmosferiche, il metro di distanza che oggi ci viene imposto, questa è un'ipotesi che i ricercatori anche della nostra Università di Bologna fanno, potrebbe non bastare. Lo vorrei dire chiaramente all'assessore Priolo che mi pare però oggi non sia collegata, lo dico in maniera molto franca. Ho ritenuto grave quel suo comunicato scritto in collaborazione con l'omologo leghista, il suo omologo leghista della Lombardia, in cui veniva invocato, chiamiamolo così, un bavaglio su questi studi. Questa per noi è una situazione inedita e non possiamo permetterci di arroccarci in difesa di interessi di pochi o assumere atteggiamenti di chiusura a prescindere. Sono i principi di prevenzione e precauzione che devono continuare a guidare la mano del legislatore. Dovrà cambiare anche molto altro, dovremmo rivedere nel profondo e potenziare il nostro sistema sanitario pubblico che oggi mostra le sue fragilità, soprattutto dove si è ceduto il passo ai privati. Il sistema sanitario pubblico che si ha retto, se con grande fatica e grandi sforzi sta reggendo, è perché poggia, oltre che su valide persone, soprattutto sul diritto alla salute come diritto di tutti e a tutti riconosciuto, ma che invece da tempo sta subendo tagli e contraccolpi. Pensate che dal 2011 al 2018 la Commissione europea ha chiesto ben 63 volte, 63 volte, agli Stati membri tagli alle spese sanitarie, tagli che purtroppo i governi passati hanno assecondato. L'Italia però ha già dato. Quello che sta accadendo ci deve quindi far riflettere sulla necessità di rafforzare ancora di più in modo strutturale l'organizzazione, la diffusione e la capillarità del sistema. È un territorio connotato da, chiamiamola così, elevata speranza di vita, da un altissimo tasso di sprawl territoriale e da un sistema produttivo che spesso non riesce ad assicurare la sua sostenibilità ambientale. Infatti questa vicenda rappresenta anche nella sua drammaticità l'esigenza di modificare profondamente la nostra visione dell'ambiente, della società, dell'economia, delle relazioni e dei diritti. E quando ci saremo lasciati l'emergenza alle spalle dovremo essere pronti ad accogliere anche le opportunità che vengono da questa situazione che forse oggi non possiamo e non riusciamo a cogliere pienamente. In questo contesto il nostro compito deve essere anche quello di sostenere ogni passo che consente di rivedere alla radice i meccanismi di bilancio dell'Unione Europea. Davanti a un'emergenza globalizzata le risposte devono essere globali, perché questa crisi ci dice con chiarezza che forse non basta un appello a volere più Europa, ma serve un'Europa migliore in cui si ridefiniscano con chiarezza i ruoli delle istituzioni e se ai segni ai cittadini la piena potestà di decisione. Dobbiamo in ogni caso mettere in discussione e modificare operazioni che molti ritenevano essere accessorie o marginali. Dobbiamo per esempio rendere ordinariamente complementari le forme di didattica online anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle risorse intellettuali ed economiche presenti nel mondo nella formazione e dell'istruzione della nostra regione. Dobbiamo estendere quello che si sta vivendo oggi come eccezionalità, diffondere e rendere quotidiane modalità di lavoro smart o di telelavoro, riducendo l'impatto della mobilità appunto per ragioni di lavoro. Noi da tempo chiediamo, purtroppo inascoltati, di potenziare le cosiddette autostrade digitali per abbattere drasticamente il peggioramento della qualità dell'aria, i lunghi tempi di percorrenza, l'affollamento del traffico e l'appesantimento del sistema di trasporto pubblico locale. Dovremmo a brevissimo individuare misure specifiche per il rilancio dell'offerta turistica nel nostro territorio, sviluppando operazioni che promuovano le destinazioni della nostra regione ed operino in una logica di reciprocità con altre nazioni europee. Dobbiamo avere la forza di procedere ad una rapida e generalizzata strategia ambientale per modificare alla radice la qualità dell'aria nella nostra regione, con evidentemente ricadute positive anche sulla nostra salute. Ma questo, come dicevamo, è il momento di concentrarci sul qui e adesso e di cercare di risolvere nel più breve tempo possibile la carenza cronica, come si diceva giustamente prima, dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei nostri operatori sociosanitari. Ed è il momento di partire davvero con il piano di tamponi nelle strutture sanitarie, è il momento di mettere in sicurezza i nostri operatori e gli anziani nell'RSA e allo stesso tempo di agire tempestivamente con chi manifesta i primi sintomi, proprio per sgravare anche gli ospedali che oggi hanno un carico di lavoro notevole. È il momento anche di proteggere chi lavora con il pubblico ed è il momento di isolare chi purtroppo per condizioni oggettive non può farlo a casa propria. È il momento, come si diceva, di fare ognuno la propria parte. La situazione per il nostro Paese, l'ho già detto ma lo voglio ripetere, è una situazione totalmente inedita e sicuramente inaspettata. Io vengo da Crevalcore, che è un comune terremotato e di situazioni imprevedibili, come dire, ne sappiamo qualcosa, ma la nostra è una terra che sa reagire se e solo la mettiamo in condizioni di farlo. Quindi facciamolo. Grazie.